Il tuo rapporto con l'editore, quindi con Veronica De Angelis e la sua Urban2030 come nasce? Nasce perché vengono in questo studio dove mi stai filmando a realizzare le foto per un murales e appunto poi vedono l'altro mio magazine Fluid, lei se ne innamora, fa l'errore di dire mi piacerebbe avere qualcosa di simile e io due settimane dopo io ho già fatto il progetto pronto per essere realizzato, cioè almeno il progetto generale. E quindi è nato così, loro vengono ad un altro tipo di realtà, che è una realtà più street, si occupano dei murales fatti con questa vernice mangiasmog, l'air light, quindi sono abituati a roba forse più scenica e meno di concetto, quindi abbiamo, però è proprio quello, io penso che per lei sia un arricchimento questo progetto, talvolta non è proprio delle sue corde, quindi bisogna riuscire a mixare, ma anche per me è una crescita, quindi io sto imparando un sacco di cose, perché con IRE mi trovo a entrare in contatto con botanici, con speleologhi, insomma con tutta una serie di personaggi anche importanti, perché poi gli scienziati sono molto contenti di poter fare arte, cioè è molto molto facile coinvolgerli, cioè diciamo che il trucco è coinvolgere persone facendogli fare cose che di solito non fanno e quindi sono contenti, quindi unire il botanico con l'artista, lo speleologo con la modella, li fai uscire dalla comfort zone sotto la grande copertura dell'arte e devo dire che per me è molto arricchente, conosco persone non avrei mai conosciuto, ma allora fin dall'inizio abbiamo deciso di dare una tematica ai volumi, il primo era sul vuoto, perché abbiamo pensato che bisognasse prima desertificare, noi abbiamo fatto un lavoro sul vuoto, però il vuoto giapponese, perché ogni numero ha anche un simbolo, il secondo numero si occupava della rinascita, un po' visto che venivamo dal vuoto e soprattutto è stato un numero botanico, che si è occupato anche di esoterismo, di piante magiche, insomma è stato molto interessante, il terzo numero è sugli abissi, in realtà volevamo fare abissi ed infiniti, ma è arrivato così tanto materiale sugli abissi che abbiamo dovuto sdoppiare le due tematiche, quando uno pensa agli abissi pensa sempre agli abissi del mare, ma ci sono gli abissi sotterranei, ci sono gli abissi della mente, insomma abbiamo cercato di scandagliarne un po' le varie tematiche e è venuto proprio perfetto quando abbiamo avuto l'occasione, Urban che è l'editore del magazine ha avuto l'occasione di imbellire ed illustrare i vagoni di un intero convoglio della metropolitana della linea A a Roma, che è negli abissi in qualche modo, quindi… Negli abissi sotterranei? Negli abissi sotterranei, ma gli abissi sotterranei li abbiamo scandagliati anche andando sotto Roma, grazie a Roma sotterranea e rimettendo in scena i miti di Medusa, i miti inferi, infatti siamo accati a base, sono i miti inferi dell'epopea greca, della mitologia greca, quindi insomma siamo andati, è stato un lungo viaggio negli abissi, che però guardando il magazine anche graficamente, perché una delle cose più interessanti del magazine è che cambiamo grafica ogni volta, che anche questa è una follia assoluta, e in questo caso la ragazza Valeria Semenzano che se ne è occupata ha fatto un tema nel quale ti tuffi negli abissi e poi riemergi, quindi non è proprio negativo negativo. Tu in particolare hai fatto proprio un servizio, uno shooting nella Roma sotterranea, mi sbaglio? Sì, ho fatto questo perché io di base sarei anche una specie di fine art photographer, cioè faccio mostre e vendo foto, e mi occupo quasi sempre di mitologia, l'anno scorso ho avuto questa mostra sul rapporto tra immagine e guarigione, tramite il rito e il mito, insomma sono materiali che mi interessano, quindi quando posso anche nei magazzini che dirigo cerco di realizzare delle opere che hanno a che vedere con la mia semantica, diciamo. E in questo caso abbiamo rimesso in scena il mito di Medusa e il mito di Orfeo, che sono due miti degli abissi, insomma, degli inferi. Abbiamo avuto la possibilità, grazie a Roma sotterranea, di scattare negli abissi di Roma, cioè praticamente sotto il San Camillo ci stanno dei laghetti, fosse incredibile, si entra da un garage pubblico e sta improvvisamente negli abissi di Roma. Prima parlavi di rito e mito. Sì. È un argomento che hai trattato, mi sembra anche di aver assistito a degli eventi, un evento con di… no, io ho realizzato l'anno scorso presso Visionaria, questa mostra che a me è piaciuta molto, di sé, non mi piacciono le cose che faccio, quella mi è piaciuta molto, perché ho avuto modo di rimettere insieme delle cose che ho fatto nel recente passato e riducendole a una scelta non tanto estetica, non tanto, non lo so, coreografica, ma rispetto a un tema che è quella della guarigione. Per varie ragioni mi sono occupato gli ultimi anni di guarigione e l'idea che non è mia, ma è di una parte della psicologia che alcuni miti servono a guarire, ovviamente non fanno guarire da grandi malattie, ma fanno guarire magari da problematiche psicologiche, per cui alcuni miti come quello di Arianna che ha a che vedere con l'abbandono, quello di Teseo che ha a che vedere con il tradimento, insomma tutta una serie di miti che io ho già rimesso in scena per conto mio, o in alcuni casi ho forzato le immagini e quindi ho fatto una mostra riprendendo queste immagini che ho realizzato rispetto al mito e anche rispetto al rito, perché ci sono alcune cose che ho seguito per rire sul secondo numero, sono andato sui Pirenei a seguire dei riti al femminile di una congrega di donne, erano 14 ore con loro che hanno realizzato tutta una serie di miti iniziatici solo per me e quindi ho messo in scena questa roba, mi piace molto. Prima di passare alla tua avventura con la seconda testata volevo capire un attimo il tuo rapporto con la scelta degli artisti, scegliere non è mai facile però è un compito e un onere del direttore artistico, quali sono state le idee principali che ti hanno guidato in questo numero di IREA? Ma allora scegliere il tema, c'è una differenza tra direttore artistico e art director che è una cosa che sembrano nomi messi a caso così, il direttore artistico, il direttore creativo diciamo è quello che più o meno decide il senso di marcia, che sia di una casa di moda, che sia di un progetto musicale, che sia dal senso di marcia, cioè quindi a grandi linee verso dove andiamo e verso dove andiamo poi piano piano si spacchetta e si svolge per cui è una questione di decidere i pesi, per esempio nel caso di IRE che ha una volontà diciamo ambientalista che si dichiara fin dal nome che si occupa di sostenibilità è ovvio che c'è bisogno di un peso che va verso quella parte contemporaneamente c'è anche una parte più artistica diciamo e quindi far concidere i due temi è un po' quello che devo fare io, la ricerca devo dire viene fatta da me e da Valeria Ribaldi che è il mio braccio destro forse in questo numero addirittura ha inciso più lei di me e nei nostri ambiti cerchiamo, cerchiamo ma cerchiamo anche su Instagram, c'è la storia per esempio, ti voglio raccontare la storia di questa Supinatra è quella ragazza russa che fa quelle foto con lei, è una specie di arcimboldo moderno si riempie di petali, ha quei baci con le piante che escono dalle labbra noi non l'abbiamo mai vista, mai conosciuta, l'abbiamo trovata su Instagram è stato faticosissimo farsi mandare le immagini, non ha mai ricevuto il magazine perché in Russia noi che lo possiamo mandare e quando ha visto le immagini della metropolitana ha fatto un posto in cui piangeva dirotto, devo dire è stata molto commovente questa ragazzetta tutta contenta che non immaginava di stare dentro una metropolitana a Roma tra l'altro è uno dei più bei vagoni. Li scegliamo così, li scegliamo perché ci piacciono, ci sono persone, amici artisti con cui lavoro da anni, Paolo Canevari sul primo numero, Angelo Bellobono, altri che conosco bene prima o poi metterò, ci sono persone che per fortuna mi danno la loro fiducia e fanno queste cose e poi ci sta gente giovane, gente di cui mi arrivano i progetti, diciamo non abbiamo filtri, non abbiamo persone che dobbiamo mettere per forza, diciamo, ed è la parte più bella quella della ricerca Fluid nasce grazie a Emi Marchionni che è un mio amico da tanti anni, come designer prima poi come stylist, makeup artist e poi l'avevo perso un po' di vista e un giorno mi bussa la porta e c'è qualcosa di diverso e ha fatto una transizione e mi dice, ha fatto una transizione M2F, e mi dice io voglio fare, voglio una rivista voglio mettere su una pubblicazione che si occupi di questi temi, ma non voglio solo questi temi, cioè quelli LGBTQ+, eccetera ma voglio occuparmi delle metamorfosi del corpo in generale, per cui mi voglio occupare di disabilità mi voglio occupare di razzismo, mi voglio occupare di body positive, mi voglio occupare di ageless insomma, e mi propone questo progetto, non me lo propone a caso perché io mi sono sempre occupato più o meno nei miei lavori di queste, sono sempre entrate corpi diversi, segnati, malformati nel mio lavoro quindi per me era proprio perfetto, sono stato molto contento di aderire e ormai stiamo al nono numero anche se c'è scritto ottavo perché abbiamo un numero zero, siamo scampati alla pandemia abbiamo fatto un sacco di cose, soprattutto abbiamo anticipato un sacco di tempi la tematica del gender fluid da quando abbiamo iniziato nel 2017 a oggi è incredibilmente cambiata quindi sono cambiate proprio le tematiche, le tematiche della disabilità sono cambiate molto grazie allo sport secondo me cioè alle Olimpiadi per disabili secondo me ha cambiato molto la percezione e devo dire anche personalmente ho incontrato delle persone meravigliose cioè è stato per me che comunque sono cresciuto con la moda, ho fatto tanti anni di diciamo mainstream non troppo mainstream, avere quest'altro tipo di scommessa è stato proprio la cosa migliore per continuare questa attività che se non mi aveva abbastanza scocciato ed è stato un bellissimo progetto quello di Fluid sempre difficile, siamo tutti creativi nel gruppo di Fluid, non c'è un imprenditore quindi facciamo un sacco di roba, non è che ci guadagniamo troppo ma non fa niente comunque siamo ripeto siamo abbastanza conosciuti ormai almeno sull'Italia siamo per quel che riguarda quel mondo lì siamo riconosciuti sicuramente qualunque personaggio si fa fotografare sia personaggio che ha a che vedere col nostro mondo sia personaggi che vogliono essere alleati, dico solo questa settimana per esempio abbiamo fotografato questa ragazza che è sorda e ha voluto gridare sul set, è stato molto commovente anche quello Elisabetta Rossi si chiama, è una modella molto bella che ci ha raccontato perché poi ovviamente sono accompagnato in interviste, ci ha raccontato il primo rumore che ha sentito che quando nel letto di ospedale la madre gli ha levato le briciole del mangiare dal letto si ricorda proprio il primo rumore dopo 17 anni senza rumori e poi questa settimana è venuta Stefania Rocca che è una mia amica da anni e che ha fatto questa bellissima pièce teatrale, la madre di Eva dove Eva è una bambina che decide di cambiare sesso e c'è tutto questo, è veramente molto bello anche a livello di regia c'è questa pièce teatrale dove esce fuori le problematiche di una madre o di un genitore che ha un figlio che vuole cambiare sesso e poi sono venuti qua e abbiamo fotografato tutti e due quindi diciamo è un continuo, arrivano ecco su Fluid le tematiche arrivano ogni giorno ci chiama qualcuno, amici potessi essere tu che ora trovi una cosa e dici questa è bella per Fluid e me la mandi e noi li contattiamo subito Come riesci a rigenerare la tua vena creativa continuamente? Qual è il tuo segreto? No, no, io quello è l'ultimo, ho avuto crisi di tutti i tipi mai quella creativa neanche la gelosia creativa ho perché veramente ho una quantità di pensieri di cose da fare non è tanto la creatività quanto la progettualità io lo trovo continuamente, cioè vado in un museo, leggo un libro, vedo un film mi faccio una passeggiata, continuamente mi vengono idee Prossimo anno, 2025, il Giubileo, cambierà qualcosa per te? Ma noi riusciremo a non prendere i fondi, gli unici sicuramente, quello è sicuro no, a me piace, poi io mi occupo di... la mostra che ti dicevo prima l'ho fatta in Vaticano ce l'ho fatta via della conciliazione, mi divertiva molto questa cosa di fare questa mostra esoterica a pochi metri al Vaticano, però io in qualche modo sono credente quindi non sono contrario allo sviluppo della ritualità, mi piace molto la ritualità quindi sono abbastanza curioso di vedermi questo... diciamo questo accadimento, non scapperò Grazie Angelo Prego